a alle docce ok no servono parti ancora e ce l'ho io mi sa che sono tipo universali perchè cioè non le mette neanche capito vediamo mi sa che sono tipo cose universali che... cose a casa di cui non si può, non si può risolvere la cosa vediamo prova ma ho qualche dubbio intanto ho comprato qui il crevail sembra quasi di bere dalle nostre bottiglie manca ancora una parte infatti della mappa da vedere è vero c'è tutta la parte a sinistra apri tu fra vediamo di qua vediamo qua ho preso un oggetto cos'era? una macchina macchina per la cinepresa è tipo quello che si usa per i film vecchi no 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 è una pellicola una pellicola non fa parte del 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 cosa vero? no è una pellicola no è proprio una pellicola guarda chi è qua dentro che ha tirato granate si sono distrutte le vetrate se non sia stata la mia cosa può essere la mia wonderwaffe perché io non ne ho nemmeno è strano però qua dentro sta di fatto che tutte le vetrate sono esplose ma che cazzo e come facciamo adesso a disattivare le cose quando arrivano senza ossigeno eh this is a big problem comunque abbiamo prima eh constatato che il ho trovato un altro un altro pezzo mini mini madonna ma che cazzo trovate voi? ho constatato che prima mentre facevo il memo in realtà stavo semplicemente facendo il primo step degli easter egg quindi niente di eclatante qua dice ancora parcer required come sta? bene tutto bene? stiamo separati da una vetrina che nessuno di noi può aprire come sta? tutto bene? spero di stare bene fra poco vabbè lo prendo la parte Mirko ah prendila prendila pensavo che l'avessi già presa te presa presa ti dico subito se la cosa funziona oppure no funziona la presa eh no manca una parte ancora ti ho visto no manca una parte ancora guarda eh madonna per costruire un'arma cosa ci vuole? un progetto di ingegneria maledetta ti ho visto no 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 zero punti cosa? come zero punti? non ho più l'arma ho la pistola iniziale perchè? è un troll forse no no questo era un mega bug secondo me ma dai mi ha cavato tutte le armi ho la pistola iniziale zero punti cosa faccio? un momento non è non è quella a fare che come si chiama lì che ha tirato fra no non l'ho tirata non hai tirato la ched vero? no no ma cazzo avevo 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 ho raccolto quest'arma ho fatto a finta di non averla raccolta per fra e cosa accade? mi vengono tolte tutte le armi? cosa? allora io spero che questo sia un bug perchè se no io io vado a trovare dove abita quello che ha fatto questa mod e e e e e lo riempio di botte ok? a prescindere lo devi riempire di botte perchè anche questo è un bug io ho 210 colp di punti non ho più ammo ho la pistola iniziale lascia non l'uccidere di fra lascia mi tirare le granate e me li ha uccisi tutti lui che ne so io? sta arrivando sta arrivando un'escavatrice oh mio dio sta arrivando un'escavatrice allora fra coprimi faccio io faccio io che tanto non c'ho un cazzo non corro io ho una macchina mortale senti questo allarme du du è un'escavatrice bisogna prendere lo strumento da hacker e andare lo spawn ad hackerare prima che l'escavatrice irrompa nella base aiuto sono secco e sto gioco di merda mi toglie le armi già che io già che io non ho avuto molta fortuna diciamo con fra accompagnami già che io non ho avuto diciamo molta fortuna con le armi fra sono senza ossigeno spero tu riesca a farmi strada nella ok adesso oltre a tutti abbiamo anche lo spawn mamma quanta gente mamma quanta gente mamma quanta gente ma dai mi stava prendo il giro controlla se sono responati i pezzi tu fra puoi prendere la 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 l'arma qua andiamo no controlliamo se per caso i pezzi sono responati ma secondo me dico si è tipo bugato il mondo no non c'è un cazzo no si è bugato il mondo ciao jambu cosa è successo jambu troppa merda troppa merda c'è un'infinita di zombie ho comprato un'arma a muro tranquilli sono di nuovo operativo ho la stessa arma che avevo prima che me le togliesse quindi tranquillo quanti sono? ok no ce ne sono un po' stanno arrivando wait an instant dove sei morto jambu? dove c'è savanta allora fra vai vai di cattiveria proprio sono passato sono passato capite quanto o ti tiro su adesso o avevo un quick revive vedi che serve un quick revive io lo so come ho fatto a passare fra e io me ne sono andato cioè non è che me ne sono andato mi ha buttato fuori lui è una situazione di merda quelli in difficoltà eh si sono senza ammo di tutto porco cane un attimo anch'io diciamo non sono messo molto bene con le armi ahahah ok e oh ok la cassa era dalla biocupola giusto? do you remember where was box perchè ho 3000 punti? mod povera illusa volevi buttare a terra zombie best nooo no non basta questo per buttare a terra il giocatore forte numero uno ti servirà dell'altro ti servirà molto più skill per buttare a terra il giocatore forte numero uno che al momento ancora zero volte a terra nonostante tu gli abbia cavato le armi tu mod cattiva il giocatore forte numero uno non va a terra così facilmente faccio cassa lollo scusaaaaa guardate la mia posizione hai perso il jug fammi indovinare no eri già morto ah no eri già morto forse dovremmo tornare che merda bello cos'è? bella forse dovremmo tornare sulla terra per far spawnare la speedcola così poi quando torniamo giù c'è di nuovo il jug santa madame santa madame santa madame lo facciamo andiamo 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 ah mi sono fatto che no non è veramente rubata ecco questa è la punizione per avertela rubata dove stai andando volando come un andiamo sulla terra che che on the earth c'è la risposta is the key on the earth there's the key for the savage of the dei quindi abbiamo capito che questa mappa ha una tipa che non parla chiamata samantha già già esatto un'arma che dovrebbe essere magari rara o quant'altro che ti cavalo dietro tipo no no era era l'arma quella che avevo trovato dalla cassa nella prima partita quella lì la ray gun doppia è presente? era quella l'arma giambo giambo ti vedo sei molto sexy ma ho voglia di andare sulla terra a fare non si sa che cosa a fare le cose poche sulla terra lo so sogna russo sogna ma stai facendo quello sogna russo sogna 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 giambo di andare sulla terra sogna sogna mi fai passare la tosta eric tofen? no no perchè io ho fatto tanto passare la morte stai morto clic 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 stai attento ai colpi intesi niente scherzi bastardi stai arrivando stai arrivando i'm here with you my friend ruski di nahoy we are on the earth volevo coprare la speedcola fatemi fare i punti volevo coprare la speedcola dato che ho tutti i perk dato che zombie best non va a terra così facilmente stupida mod e what? mi sono mi sono dimenticato che ho il push to toll sulla granata hai tenuto provuto il push to toll che giustamente esplosa la granata che avevi in mano ok ok possiamo andare si la speedcola ragazzi ci siamo ho finito i colpi ma ne valsi oggi ho proprio voglia di sostituire i debba ragazzi come volte a terra come giocatore scarso ma guarda che tutti si oggi proprio sono sulla buona retta via io rinomino adesso ragazzi oddio non ho punti per un cazzo non ho colpi rinomino adesso i gradi giocatore forte numero 1 sono io giocatore scarso numero 1 e fra giocatore scarso numero 2 sei te perchè giocatore scarso numero 1 è numero 2 perchè tu sei più scarso di lui fra sono a terra no non ti vedo a terra jumbo ho trovato la sono nella vagina cosa? oh mio dio eh no se mi usciva questo oh mio dio ma che cosa? eh fra devi accompagnarmi perchè io sono 0 emmo di tutto e devo andare dal k vuoi dire la bella notizia sentiamo la brutta prima ho finito i colpi di rinomino la bella? ho trovato un'arma scarsa mancavo un'arma allora ascolta bella o brutte notizie a parte ufff fra scappa scappa io non ho niente 0 nothing jambu mi sa che la tua wounder la perdi sto colpo eh eh si non importa lasciala perdere io ho 0 munizioni esaurite di tutto devo comprarmi l'emmo a murro dove sei morto tu praticamente oh salti salti dio si dio si dio si ufff posso tenerti qualche zombie il DRAGONOV aiuto aiuto c'hai la leg cassa non basta questo per buttarmi a terra l'arco l'RPK credo che questo qua sia quello che ti servirà per buttarti a terra ok stiamo calmi allora farà ok dove sei morto allo spawn? si allo spawn vedo un po' di zombie che sono arrivando ho fatto 10 colpi di reagan per coprirti ok non usarli quindi jambu sei ancora tra noi più morto ok salve lì era facile farsi chiudere c'è niente da fare oh ragazzi non è serata per per il team zombie però ormai di questa mod abbiamo esplorato praticamente ogni ogni esatto segreto abbiamo visto anche che ti frega i punti e le armi quando costruite l'arma quindi non fatelo avete visto che il giocatore forte è andato a terra una sola volta questo penso vi basti per capire che dovete iscrivervi al canale bene detto questo lasciate un bel like perché questa mod fa schifo no dai la mod non è male è una mod troll mi piace un sacco vedere questi cambiamenti su black ops 1 spero continuino il lavoro delle mod e spero che si avveri la cosa anche in black ops 3 forse spero troppo però ragazzi questo è quanto spero io voi siete rimasti soddisfatti allora abbiamo dato le votazioni anche per nova 6 mod diamo le votazioni per questa griffin station io gli do un bel 7.5 6.5 4.5 perché 4.5 perché mi sta sul cazzo moon a prescindere e la mod ci ha trollato abbastanza ok quindi la media e ho la tosse col tuo 4.5 come va a finire la media generale vediamo se sai fare la matematica 6.6 la mappa si mantiene sulla sufficienza ragazzi sufficienza scarsa di questa mod scriveteci nei commenti cosa ne pensate e noi ci risentiamo al prossimo video da zomest da francis siamo intossicato siamo intossicato è tutto when the moon hits your eyes like a big pizza pie that's convinzione ciao a tutti ciao a tutti